Eccoci tornati, buongiorno ragazzi, benvenuti nel gruppo se state guardando in diretta questo video mentre voglio dare un saluto anche alle persone che lo guarderanno poi su YouTube una volta pubblicato anche lì Aspettiamo che arrivino un po' di persone Ciao Federica, ben trovata Di che parliamo oggi? Nel video di ieri abbiamo iniziato a introdurre un modello per la formazione che riguarda il formatore quindi che riguarda delle strategie e degli atteggiamenti comunicativi del formatore in aula o di chiunque voglia parlare in pubblico, voglia relazionarsi uno a molti con un pubblico che sia all'interno di riunioni, che sia all'interno di team building che sia ogni volta che debba fare uno speech Abbiamo iniziato a introdurre i quattro avatar, i quattro personaggi che un formatore deve assolutamente impersonare se vuole connettersi con il proprio pubblico Sono quelli del saggio, del leader, dell'esperto e del mago Adesso questi nomi ovviamente sono delle simbologie, dei simboli di per sé non vogliono dire niente però sono molto rappresentativi delle caratteristiche attraverso cui devi uscillare, devi ciclare, devi sapere entrare e uscire ogni volta che parli con un pubblico Molto spesso vedo formatori che cercano di replicare uno stile di public speaking di parlare in pubblico molto pulito, molto preciso ma anche molto stereotipato Con una serie di gesti, con un tipo di linguaggio molto standard ma anche molto poco variabile con molta poca dinamica all'interno di una comunicazione con il pubblico Adesso c'è questo Se devi tenere uno speech di 10 minuti Quindi forse va anche bene anche se molto probabilmente non riuscirai a connetterti che con una piccola parte del tuo pubblico Magari sei perfetto dal punto di vista dei movimenti, delle mani, dei sorrisi, dei gesti, dei piedi e tutto il resto Ma quello che personalmente voglio fare quando tengo un corso, quando formo delle persone, quando lavoro con le persone è quello di creare una connessione, creare una relazione, creare apprendimento E proprio per questo negli ultimi anni ho sviluppato un modello di lavoro Faccio formazione da 15 anni, da quasi 20 anni sostanzialmente Un modello di lavoro replicabile, un modello di lavoro molto pulito che ti permette di comprendere come arrivare alla maggior parte delle persone dal vivo, online, in un gruppo piccolo, in un gruppo grande Ieri ho introdotto questi quattro personaggi, questi quattro caratteri che non è che devi iniziare a recitare però devi iniziare a considerare proprio a livello di tipo di comunicazione all'interno della tua comunicazione Perché? Perché si connettono con i diversi tipi di pubblico che hai Ieri abbiamo introdotto il saggio, il leader, l'esperto, il mago Ci sono persone all'interno della tua audience, del tuo pubblico che vogliono acquisire informazioni Non sono tutti, non stanno tutti lì per le stesse cose Ognuno è nella tua aula, ognuno ti ascolta per motivi diversi Ci sono quelli che vogliono acquisire informazioni Sono dei collezionisti di informazioni Vogliono saperne sempre di più ma per ordinare il loro sapere E magari non riaccederci più ma per avere una visione intellettualistica Una visione quasi tasso nome, quasi da collezionista di Franco Bolli Del sapere Sono quelli che frequentano tantissimi corsi, tantissime cose e non applicano mai Però loro ce l'hanno inscatolato nella loro libreria Nella loro biblioteca personale, nel loro... C'era mio zio una volta, mi ricordo che lui collezionava Sai quando negli anni 90 Internet era, ma la linea era molto lente Lui collezionava, comprava le riviste in edicola dove c'erano gli allegati Con i cd, con i software, con i programmi In demo, in prova, anche versioni pieni E lui li comprava tutti e se li collezionava Se li metteva nella sua libreria, non neanche li installava Però ce li aveva tutti ordinati La versione 1, la versione 2 La versione 1.2, 1.3, 2.2 Aveva, li metteva anche in ordine così Ci sono persone che vengono ai tuoi corsi Che vengono a sentirti, che vengono ad ascoltarti Per una motivazione del genere Cercano le informazioni e cercano un esperto di informazioni Con cui magari discutere Con cui magari dibattere Non è un'accezione necessariamente negativa Adesso prendevo un po' in giro il mio zio Ma hanno quell'atteggiamento lì di organizzare il sapere Di avere una visione chiara del sapere Non cercano una trasformazione Non cercano altre cose che magari altri personaggi cercano Altre persone in aula cercano Quindi queste persone cercano l'esperto Cercano l'esperto da cui possano acquisire informazioni E con cui possono instaurare un dibattito Una conversazione sulle nozioni che hanno Sulle conoscenze che hanno Non come usare queste conoscenze per andare da qualche altra parte Poi c'è il personaggio del mago Il personaggio del mago nella formazione A chi si rivolge Si rivolge a quelli che sono alla ricerca Che fanno un passaggio ulteriore Capiscono che ci sono alcune informazioni Che possono essere più utili di altre Per avere un vantaggio personale Per avere un drive maggiore nella vita Sono quelli che cercano le tecniche segrete Metto tra virgolette ma per farti capire il tipo Che cercano il metodo Il sistema perfetto per hackerare Quella dinamica lì relazionale Il trucco che gli consente di sbloccare una situazione Che gli consente di guadagnare di più Che gli consente di avere un vantaggio Sui loro colleghi O sui loro competitor O sui loro amici Che gli consente di chiudere il giro a golf Con due tiri di meno Abbassare il par Che gli consente di arrivare primo Nella partita del torneo di tennis Del circolo a cui sono iscritti Quindi queste persone Rispetto a quelli che cercano un esperto Cercano il mago Cercano quello che gli dia la tecnica segreta Il trucco per vincere Il trucco per avere di più Non sono tutte Quindi non solo cercano informazioni Ma cercano informazioni Che solo loro possono avere Che solo una persona che ha fatto un passaggio superiore Rispetto all'esperto Che vede tutto in maniera abbastanza piatta Quelle informazioni segrete Che gli possano dare un vantaggio competitivo sugli altri Il terzo personaggio è quello del leader È quello che si rivolge a quel tipo di persone Dell'area del gruppo che hanno davanti Che vogliono Che sono lì ad ascoltare Per sentirsi parte di un gruppo Queste persone sono totalmente diverse Da quelli di cui abbiamo parlato Da quelli che cercano il mago Questi cercano un leader Cercano una guida Ma non un maestro Non semplicemente qualcuno che li guidi Ma qualcuno che sappia Creare un gruppo di persone Di cui possono sentirsi parte E queste persone sono lì Per un motivo totalmente diverso dagli altri due Questo modello di lavoro Poi ovviamente nella scuola formatore Lo svilupperemo E ti insegnerò a comunicare con ciascuno di loro Però voglio che inizi ad avere chiaro Quali sono le dinamiche possibili E il tipo di comunicazione I quattro tipi di comunicazione che puoi attuare Ed infine L'ultimo 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 carattere L'ultimo avatar Che come formatore Devi imparare Ad implementare Dal punto di vista Comunitivo E quello del saggio E cioè quello che si rivolge Alle persone che sono in aula Per Non solo per avere un vantaggio competitivo Non solo per sentirsi parte di un gruppo Non solo per avere informazioni Ma che cercano Una trasformazione personale Che cercano Un senso di identità Che sono lì per scoprire Qual è il loro potenziale E come possono Attraverso il loro potenziale Trasformarsi In questo In qualcun altro Adesso Per esperienza In un gruppo di persone Piccolo o grande che sia Ci sono Mediamente Tre Sempre tre Sicuramente E spesso anche quattro Di queste Di queste Di queste tipologie Di persone Nel momento in cui Sai entrare Sai comunicare Con ciascuno di questi tipi Riesci a Prendere tutta l'aula Riesci a comunicare Con tutta Con tutta l'aula Nel momento in cui Non sei consapevole Nella maggior parte dei casi Le persone Che fanno formazione Che fanno comunicazione Non sono consapevoli Di questi livelli Stratificati Livelli evolutivi Della parte comunicativa Si perdono necessariamente La maggior parte I tre quarti Della loro aula Perché in aula Avrai sicuramente Quando parli a un pubblico Avrai sicuramente Tutte Tre Tutte O quasi tutte Almeno il 75% Di queste tipologie Di persone Molto spesso I formatori Riescono a implementare Un solo stile Di formazione Un solo stile Di comunicazione Quello che gli viene Più naturale Molto spesso Può essere Quello del Del Dell'esperto Molto spesso Può essere Quello del Del leader Ma Io per esempio Riconosco Quali sono Le leve dinamiche Quando io Partecipo a un corso E sono Mi toccano Mi toccano molto Quelle Del Del saggio Mi toccano molto Quelle Del Del mago E in minore Entità Quella Del leader Quando partecipo Sto dicendo Però riconosco In me queste cose Ma se trovo Una persona Che parla Solo una di quelle lingue Che magari Non è la mia Semplicemente Vado via dal corso Mi alzo Me ne vado Oppure Anche se ho pagato O In passato Stavo lì Mi sorbivano Questi due giorni Di formazione Magari Iniziamo anche A entrare in conflitto Con il formatore Magari Iniziamo a prenderlo in giro Iniziamo Come dire A A screditarlo Ero più Piccolo Ero anche più Più cattivo Però Non conoscevo Neanche Come dire Non avevo ancora Lavorato Su queste dinamiche Parlavo Di quando avevo 20-22 anni Allora Se fai formazione Se parli in pubblico Se ti trovi Normalmente A interagire Con gruppi di persone Devi capire Innanzitutto A quale stile A quale avatar appartieni Per attitudine Per naturalezza Non puoi non sapere Dove sei In questo spettro Delle possibili Posizioni Che un formatore Può avere Come seconda cosa Devi iniziare A sviluppare Anche un pochino Alla volta Anche un pezzettino Le altre Le altri personaggi Le altre energie Di formatore Di public speaker Perché se no Rimarrai confinato Sempre all'interno Della tua Nicchia ristretta Di persone Che risuonano con te Non riuscirai mai A evolvere Verso qualcosa Di più ampio Di diverso Non riuscirai mai A comunicare bene Con persone Che parlano Una lingua diversa Allora Questa cosa La faremo È una delle cose Che faremo Nei cinque giorni Della scuola Formatori Però intanto Ti inizio Ti inizio a chiedere Riascoltando magari Questo audio Questo video Scusami A quale Di queste quattro categorie Saggio, leader Mago, esperto Senti naturalmente Di appartenere Quando Segui Qualcosa Quando senti qualcuno parlare Quando senti una conferenza Quando Segui un corso E poi Iniziare a renderti conto Che lo spettro La gamma possibile Delle Come dire Delle comunicazioni Delle energie comunicative Delle leve Valoriali Che puoi attuare Quando parli con qualcuno Delle leve Che guidano Che spingono Una persona Che la motivano A Iscriversi A venire Ai tuoi corsi A parlare con te Ad ascoltarti A cercarti Sono varie Devi saperle Devi conoscerle Devi saperle suonare Ed ascoltare Quando parli con loro Ci vediamo Nei prossimi video In diretta Se siete Nel canale Nel gruppo Scusami Nel gruppo Coach in Italia Ci vediamo Nel prossimo video Che adesso Scaricherò E pubblicherò Su Youtube Se sei nel canale Nel canale Youtube Ci vediamo Comunque Nei prossimissimi Anche se non si dice Giorni E intanto Buona giornata Scuola Formatori 7 11 Marzo 2020 Per imparare A coprire L'intero spettro Della possibile Comunicazione Con il tuo pubblico Ciao Buona giornata